Lo sportello del cittadino si trova a Taranto, a San Vito, in via Calata-Livezza, una delle tantissime strade che purtroppo non gode dell'acqua potabile. Un grosso handicap, un grosso disagio per gli abitanti. Ne parliamo proprio con un abitante della zona, il signor Biagio Lamanna. È una situazione difficile, quanti disagi? È una situazione difficilissima e in circa 30 anni di tentativi, di approcci sia con il comune, con l'acquedotto, con i varienti, le scuse, le motivazioni sono state tantissime. L'ultima trovata per la quale non possiamo avere acqua è che si tratterebbe di una strada privata. Privata nonostante comunque alcune opere pubbliche siano state fatte, tipo il tronco fognario, o tipo l'illuminazione pubblica, o tipo la condotta del gas. Se una strada è privata non si mette la pubblica illuminazione a spesse del soggetto pubblico? Infatti. Tra l'altro c'è anche chi dice che abita da tanti anni qui, addirittura alcuni impiegati comunali che abitano nella strada, che affermano che la cessione bonaria in realtà è stata fatta più di 30 anni fa, ma pare che questi documenti non si trovino e non valgano più. Ecco, andando un po' a vedere le sollecitazioni che avete fatto, vi siete rivolti all'amministrazione comunale. Ci sono segni di risposta? No, abbiamo mandato una lettera, quasi un anno fa, sia al sindaco, sia alla direzione lavori pubblici che patrimonio, nessuna risposta. Il patrimonio ci ha dato dei modelli da compilare per rifare la cessione della strada al comune. Lo abbiamo fatto tutti quanti, mancano solo 3 o 4 terreni dei quali non si riescono a rintracciare i proprietari perché sono in stato di abbandono, ma pare che anche questa, dopo un'estate spesa a raccogliere firme, a compilare modelli, non vada bene perché ci hanno risposto che tutte e 300 le strade perché possano partire i lavori devono fare la stessa cosa, un'utopia, perché non tutte le strade hanno un delegato che si prenda l'incarico di sollecitare e di sensibilizzare tutti sul problema. Quando poi il cittadino di San Vito si sente trattato da cittadino di serie B non ha tutti i torti, vogliamo l'acqua potabile nelle strade di San Vito. Capito?